L'Università di Napoli è una grandissima istituzione culturale che ha intrecciato la sua storia con la storia della città, formato le classi dirigenti del Paese, del Mezzogiorno d'Italia, è un grandissimo motore di trasformazione culturale, di trasformazione sociale, di trasformazione economica, una grande risorsa e una testimonianza reale di qual è il valore di questa città, qual è stato il suo ruolo a livello mondiale. Una sorgente di conoscenze e un seminario di insegnamenti, scriveva così Federico II nella lettera fondativa dell'Università di Napoli e dopo 800 anni di conoscenza, apertura, confronto, ci piace immaginare che sarebbe soddisfatto anzitutto lo stupor mundi per i risultati e l'opera della sua creatura, la prima università pubblica del mondo. Oggi nella sede centrale sono stati presentati progetti ed eventi che avranno luogo durante tutto il percorso che la accompagnerà allo storico traguardo, il 5 giugno 2024. L'occasione dei festeggiamenti degli 800 anni rappresentano veramente un evento straordinario in cui anche la città sarà protagonista e un'occasione anche per fare una riflessione sul futuro dell'innovazione e della crescita economica di Napoli.